Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Oggi siamo su Raid or Not, partiamo a bomba in questo inizio di 2023 su questo titolo che mi sta prendendo davvero tantissimo. Ultimamente stavo pensando di farvi un video su quali mod utilizzare per migliorare l'esperienza di gioco rendendola ancora più realistica possibile. Partiamo da quelle che per quanto mi riguarda sono le mod base per migliorare l'aspetto del vostro operatore e dei vostri compagni. Ho trovato questa mod che modifica l'uniforme OD Ranger Green di base del gioco con una Multigam G3. Nella descrizione della mod si legge che è presa dai ranger di Modern Warfare. A parer mio per iniziare a giocare su Raid or Not simulando ad esempio un reparto americano questa è davvero ottima. Da come potete vedere il pattern non è affatto male e fa la sua bella figura. Sistemato il lato estetico per ora andiamo sul lato audio. Personalmente la voce standard del gioco mi sembrava troppo moscia. Serviva più adrenalina nel tono di voce. Così ho scelto di inserire questa mod con le voci di Squat 4 il quale sono perfette e si sposano appieno con il gioco. Da come avete visto e sentito è tutta un'altra storia. Il tono di voce è più aggressivo e trasmette quell'adrenalina giusta. Stessa cosa anche per le comunicazioni radio con la sala operativa. Ho aggiunto questa mod che modifica il filtro della radio e la voce dell'operatore nella sala operativa. Sistemato il comparto audio passiamo agli effetti. Ho inserito questa mod che aiuta il dismembramento delle parti del corpo con aggiunta di schizzi di sangue sulle pareti e sul pavimento. Questo secondo me dava quel tocco in più di realistico che non guasta mai. Se siete molto attenti ai dettagli questa mod fa proprio al caso vostro. Ultima mod che ho inserito nel mio starter pack se così vogliamo chiamarlo è chiaramente qualcosa che andasse a migliorare il visore notturno. Montando un pvs non abbiamo una visuale panoramica come il gp nvg 18 ma abbiamo un monoculare. Quindi gunfighter nvg non solo inserisce una maschera divisione migliore rispetto al gioco base ma migliora il filtro rendendo un velo migliore l'auto gating e un controllo automatico migliore della luminosità in zone scure. Per ora direi che queste mod fanno parte di uno starter pack per chi vuole iniziare a far sul serio su radio or not. Siamo andati a migliorare quelli che sono gli aspetti secondo me fondamentali per rendere il tutto un po' più realistico. Dalle uniformi al suono agli effetti. prossimamente preparerò un secondo video dove andremo a vedere le mod più avanzate per migliorare davvero ogni dettaglio come le armi e i suoi componenti. Per ora fermiamoci qui. Ragazzi io vi saluto e vi ringrazio sempre per il vostro supporto. Noi ci diamo appuntamento dunque al prossimo video. Un saluto dal vostro Blake. Noi ci diamo appuntamento 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 Noi ci diamo appuntamento